Gossip News Vi voglio bene, mi clicco sempre Ciao Sei fantastica, questo cappellino è fantastico Ma guarda, l'ho preso a New York Proprio veramente cheap, cheap, cheap Però, devo dire, comodo per questo freddo che è arrivato Quindi va benissimo Come sei stata a New York? New York sono stata, beh, questo è l'inverno ovviamente Però sono stata ultimamente ad agosto, fine ad agosto Ho avuto che affrontare una specie di audition Audition per entrare in una scuola musical E quindi, insomma, ho approfittato di visitare con i miei amici Ma soprattutto per questo obiettivo Grazie a tutti